I sistemi di incentivazione legati alla classe degli operai in un'azienda manifatturiera rappresenta un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Sicuramente non possiamo considerare solo gli aspetti economici come leve strategiche per la gestione produttiva, ma dobbiamo includere anche altri elementi fondamentali per la gestione per sostenere la motivazione al recupero di competitività e produttività. Poter contare su un sistema informativo, un sistema di informazioni dedicato è strategico per una direzione risorse umane perché ogni soluzione, ogni necessità deve essere vericolata attraverso la conoscenza. La conoscenza è un elemento indispensabile per poter implementare correttamente qualsiasi percorso di sviluppo e qualsiasi percorso gestionale che possa in qualche modo valorizzare a pieno il know-how e il bagaglio di competenze posseduto dalla risorsa. Accanto ai sistemi di incentivazione, le leve soft che molto spesso devono essere gestite con grande determinazione all'interno di una direzione risorse umane sono sicuramente la passione, la partecipazione e la condivisione. Questo perché risponde meglio ai requisiti, agli obiettivi primari di una direzione Ciar che sono attrarre, ritenere, motivare le risorse. Senza di queste sicuramente perderemmo una leva fondamentale nella gestione delle persone.